In questo video ho creato una sfilata ed ho invitato 100 fan E chi venceva potrebbe giocare con me off live Quindi vediamo cosa è successo E siamo qui in questo video e oggi devo votare ai 20 fan come è il loro set Quindi facciamo vedere il primo Allora valutiamo la sua skin Che lui ragazzi c'ha il miascolo tutto dorato Che era una skin anche molto difficile da ottenere Quindi vediamo com'è Allora ha tutto molto bello E dai vabbè lui vai lì Vai lì Allora vediamo te Ok sali fatti vedere Molto bello tipo una skin sportiva Il piccone sta Ma è del set Cioè ragazzi sto piccone è del set Poi vai tu vai avanti Vai entra mucca Allora ragazzi abbiamo qui una bellissima mucca Quindi vediamo com'è andrà Allora comunque credo il zaino è del set Quindi ci sta Non mi piace molto il piccone però ragazzi ci sta Vediamo secondo me l'unica cosa Non so se quello è del set Ragazzi non potete usare cose del set Quindi vi avverto Quindi se avete una skin abbastanza brutta E avete qualcosa di set Lì giù c'è un camerino Andate a cambiarvi Perché non è una cosa brutta adesso Comunque dai ti sono gentile Ti faccio passare vai Prossimo Allora vediamo lui Una skin rosa Ma raga il piccone vi dico sinceramente non mi convince Ragazzi il piccone non mi convince Ma non ci sta molto bene Quindi mi spiace ma vi tocca Ma entra prossimo Allora vediamo lui Allora sta skin è orribile Cioè fa schifo perché non mi piace Cioè sto Sto puffuto Sto coso puffuto Non so neanche cosa sia Cioè cos'è sto coso E il piccone Mi vieno mali occhi Perché è un piccone rosa Che credo che sia raro quel piccone Molto bello Però comunque Con sta skin ci sta davvero male Quindi mi spiace però Ma Non ci sta poi niente bene Vediamo un po' qual è il prossimo Lui ragazzi è figo Spacca Allora ragazzi lui comunque spacca Molto bello E direi che sta molto bene Lì ragazzi sono anche perfette Perché sono dorata Ha la skin bella Anche l'arma Raga bellissima Andiamo qua Prossimo Il pesce secco Una delle mie skin preferite Allora vediamo un po' Non c'ha un zainetto Vabbè anche un altro skin Prima non ce l'avevo Quindi ci sta E ha una mazza Che non è che sta molto bene Con il pesce secco Quindi mi spiace bro Ti ho detto non andare Provo che ti sei intrufolato Adesso va via Prossimo Entra Entra Vabbè è una default Quindi sai che ti dico Il vostro cardex Non ha il stile Comunque mai Entra Entra Vabbè tu stai No Non volevo ammazzare l'altro Vabbè È rimasto solo lui Entra bro Entra Vieni Ti ammazzo Ok bravo Dopo 30 anni l'hai capito Ok Allora vediamo la sua skin La skin è bella Ma non mi piace il piccone E il backpack Stonano tantissimo Ok E mettetevi uno di fianco all'altro Tutti là Subito Allora vediamo le vostre wrap Stonano tutte un sacco Cioè non mi piacciono tutte per niente Quindi Cioè Una cosa dorata Che è Cosa della lava Beh Ma nel senso L'oloro lo puoi sciogliere Puoi fare le armi Quindi Ci sta in effetti Questa Allora Voi dovevate scambiarmi le wrap Che sarebbero meglio Vabbè Allora Io devo ammazzare solo uno di voi Ok Non posso ammazzarvi tutti e due Quindi Secondo me lui ci sta Quindi quello che non ci sta È la mucca Venite qua adesso voi due Allora voi due dovete farmi vedere il deltaplano Perché faremo due run Ok Un po' stonato Vai Vai anche tu col deltaplano Tizio Ok Lui ci sta bene Anche Vai di nuovo anche te Sul gatto dorato Rifami rivedere il deltaplano Scusate lui aveva l'ombrello verde Quindi Lui non mi piace Il cappello verde Quindi il vincitore È lui GG Ok ragazzi Quindi siamo col primo vincitore E adesso Faremo il secondo Radomank Con tema particolare Ok Siamo tornati Nelle sfilate E il secondo tema Di queste sfilate È il tema Marvel Quindi Vediamo quale skin ci sono Ragazzi fate anche un emoticon Tipo un balletto Se volete Vediamo il backpack Il backpack Allora ragazzi Secondo me ci sta molto Quindi puoi andare avanti Vai lì Stai fermo Non mi tirare cose in testa Come prima Il prossimo Vai Il prossimo È il nostro carissimo Spider-Man O meglio dire Peter Parker Beh L'emoticon spacca Mi piace Il zaino Non l'ha messo Perché Lo spider-man Non serve un bel zaino Quindi vabbè Ci sta E Anche il coso Sta anche abbastanza bene Quindi Ragazzi direi di farlo passare Vi coi ragazzi Se non siete iscritti al canale youtube Lasciate like E iscrivetevi Comunque Ti faccio passare Il prossimo Non mi piace Cioè Fammi vedere il piccone Ragazzi non mi fa vedere il piccone Vabbè Comunque non mi piaceva Prossimo Non è Marvel Quindi già ti devo ammazzare Prossimo Ok Allora lui Catta in America Fammi vedere il piccone Fu cose di fuoco E quelle cose Ma non c'entrano niente Con catta in America Oh ragazzi Ma dove siamo Non c'entrano niente More Prossima Gwen Perché non ha senso Stai morto Non ha senso Con Gwen Ragazzi Mori Lorenzo Perché non ti ho detto Di andare là Bello lui No lui spacca La spada ci sta Bello lui Tu vai avanti Vai là vai Vai vieni Allora abbiamo lei La tizia Con sto ali Belli Il piccone è un po' strano Ragazzi Non mi piace Ma dai Sono gentile Quindi puoi andare là Vai là Spiderman Ok Vediamo quale Differenza Della età Del spiderman Di prima Il piccone ci sta Ma dai Quindi vai avanti Un altro spiderman Identico a quello Di prima Quindi Comunque Il scuro Di cut in america Non c'entra niente Il piccone Che è quello Di iron man E non c'entra niente Poi lo spacca Mi dispiace Tu il piccone Il piccone che hai messo Una spada Spacca Ci sta Poi dai Quindi vai avanti Tu che cosa sei Questa skin Non l'ho mai vista Ragazzi Che cos'è Bello Vai vai anche te Vai anche te là Ok Ora mettetevi Una accanto All'altro Ok Fatemi vedere Le varpe Che avete messo Bella Lui mi piace Allora fammi vedere La tua Vai Ok Tu Tu mettiti qua Vai là Tu Vabbè ragazzi Dai lui sta abbastanza bene Mi piace molto Quindi vai vai anche te là Mi piace Tu Bella anche questa Stora nel giallo Che stono Proprio dai Ci sta Vai anche te là La tua No Non mi piace È bianca Quindi tu La tua Non mi piace Quelli che vanno eliminata Sei tu E anche te Perché le vostre armero Non mi piacevano Le vostre var Ora venite tutti con me Ragazzi Ora fatemi vedere Le vostre Vrap Inizia il primo Vai Ok Lui spacca Bellissima Toto sei passato Ragazzi siete passati Venite qua sopra Dove ci sono io Quindi Toto vieni qua Dove sono io Grazie Anche te Passat Buono Ok anche te Vieni qua Prossimo ragazzi Spider-Man Vediamo Non mi piace Brutto Che cos'era Un dirigente Non mi piaceva Vediamo te Ma non ci sta niente Con Spider-Man Tu Vediamo cos'hai te Tipo foturistico Mi piace Molto bello Ok Venite tutti giù Era una sfida Tra Marvel e Thor Ragazzi Secondo voi Chi vinceva tra Thor Secondo me Vi dico La mia finale Ha vinto Thor Quindi ragazzi Spero che questo video vi è piaciuto Ma come ragazzi lasciate like Iscrivetevi E noi ci vedremo In un prossimo video In questo video Devo salutare Morgan Ambrosi Matt Egg E Vect XR Grande ragazzi Che avete trovato La parola segreta Ma come ragazzi Se anche voi Volete essere salutati In un prossimo video Nei video futuri Scrivete la parola segreta Sotto Nei commenti E noi ci vedremo In un prossimo video Ciao belli Ciao belli Ciao belli